Ciao ragazzi sono Revox, il metodo per prendere più soldi durante una rapina in negozi alimentari è semplicissimo basta uccidere il commesso e prendere i soldi direttamente dalla cassa premendo il tasto destro del controller in questo modo si svuota completamente la cassa mentre quando si fa una rapina normale puntando una pistola o un'altra arma contro il commesso il commesso svuoterà solo parte della cassa un altro modo per guadagnare soldi su GTA Online è vendere allo Santos Custom i veicoli non di lusso in particolare questo che frutterà ben 9000 dollari in più si possono vendere anche altri veicoli che però frutteranno sempre meno di 9000 dollari